Pachino, ubriaco, morde il brancio al padrone di casa al pranzo di Pasquetta, arrestato. Le gente del commissariato di Pachino sono intervenuti in un'abitazione nei pressi di via Nazario Sauro, dove un giovane di 23 anni, invitato a un pranzo in occasione della Pasquetta, andava in escandescenza per eccessivo consumo di alcol e per cause, ancora in fase di accertamento, prima mordeva a un braccio il padrone di casa, un uomo di 45 anni, e dopo, all'arrivo dei poliziotti, sferrava un velento pugno al nipote del padrone di casa, un giovane di 27 anni. Zio e nipote, dichiaratesi amici dell'aggressore, riportando pochi giorni di prognosi, non hanno inteso sporgere querela nei confronti dell'invitato loro amico. Il 23enne, portato in commissariato per gli accertamenti del rito, mostrava una spiccata aggressività e tentava di scagliarsi contro i propri genitori e dopo contro uno degli agenti presenti che spintonava fino a farlo cadere a terra. Per tali ragioni, il giovane è stato denunciato per i reati di violenza pubblico ufficiale e per lesioni personali. Il denunciato a scopo cautelare sono stati ritirati tre fucili posseduti legalmente, dei quali però aveva omesso di denunciare il trasferimento da un luogo di detenzione a un altro e pertanto veniva denunciato anche per tale motivo. Al termine delle incombenze di legge e su disposizione dell'autorità giudiziaria competente, il giovane è stato posto ai domiciliari in attesa dell'udienza di convalida.